faccia con l'arbitro, rimane impassibile ma chissà, e Tombolin ci lo dirà, se con la sua coscienza, con quella degli assistenti, davvero ha un conto limpido. Fatto sta che Guardiola al fine beffa il maestro Hidi ed è il Barcellona ad essere la seconda finalista di Champions League. E sì, Barcellona la seconda finalista insieme ovviamente al Manchester, Barcellona che fa esplodere tutta la sua rabbia, fra pochissimo vedremo anche altre immagini della rabbia di Drogba, che lo stiamo vedendo proprio questo istante. il regista Mario Codoro ne sta mettendo in onda, Drogba davvero fuori di sé per la rabbia, un arbitraggio davvero...